Pronto? Pronto? Parlo con Mr. Zhang? Pronto? Risponde segletalia telefonica calcele Nanchino. Qui essele signor Zhang facendo colazione. Lasciale messaggio dopo segnale acustico. No, sono il sindaco Sala di Milano e volevo parlare con il signor Zhang, il presidente dell'Inter. Quando avete un momento di richiamarmi per la questione stadio, per favore. Grazie. Sono Fabrizio Biasin di Libero, il giornalista interista. Eh sì, no, perché ho saputo che c'è stata una comunicazione. Mettete sta roba qua sul giornale, non vi preoccupate. C'è stata una comunicazione tra il sindaco Sala e Zhang. Hanno parlato tra di loro. Io lo so, lo so. Eh, me l'ha detto il sindaco. Tribù Rossonera, tribù di gente vera. Buongiorno e buon 28 febbraio a tutti e a tutti e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Due anni fa a quest'ora moriva mio padre. Ciro, il grande Ciro. E una cosa che mio papà mi insegnò fin da piccolo è dire, Mario, è meglio rimanere con le pezze al culo, però dire sempre la verità. Almeno quando vai a dormire, dormi sereno fra sette cuscini e nessuno ti può dire niente. Però stai attento, Mario, perché per dire la verità ti troverai tanti, tanti menzonieri che questo non piace e ti verranno contro. Quanta ragione aveva papà. Quanta ragione aveva papà. Stamattina mi sono imbattuto in questo articolo che tra l'altro è di due giorni fa, devo dirvi la verità, di lunedì, dove scrive, da Calcio e Finanza, contatto con Sala, Zhang non scarta l'ipotesi di restyling per San Siro. E vi dico, bello leggo, tanto è un trafiletto, non è tanto, contatto tra Steven Zhang e il sindaco di Milano Giuseppe Sala sul tema San Siro. Lo riporta il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, che immagino tutti conosciate, che aggiunge, il presidente dell'Inter attende garanzie rispetto all'idea della ristrutturazione, capace dell'impianto durante i lavori, progetto e costo della ristrutturazione, ma non scarta l'ipotesi. Il tema di una ristrutturazione del Meazza, preso nuovamente piede in queste settimane, dopo la spinta da parte dell'amministrazione comunale, ne abbiamo parlato in tutte le salse, la multinazionale WeBuild è stata incaricata di portare avanti uno studio di fattibilità sulla ristrutturazione che dovrebbe essere presentato nello spazio di circa tre mesi. Il Milan e Inter hanno respinto l'ipotesi di una ristrutturazione di San Siro. Tra i problemi individuati, quello principale era la necessità di spostarsi durante i lavori in un impianto diverso. Tuttavia, secondo WeBuild, non ci sarebbe questa necessità, si potrebbe lavorare sulla struttura pur continuando a fare disputare le sfide delle milanesi al Meazza. Però, Scaroni, cosa risponde ai microfoni di Dazzon? WeBuild ha scritto una lettera piena di sé e di ma, da approfondire, ma noi siamo pronti a prendere in considerazione l'ipotesi di una ristrutturazione solo se qualcuno ci garantisce in modo formale che possiamo continuare a giocare lì. Ma il nostro progetto principale è e resta San Donato. Allora, innanzitutto, io ormai sono anche un po' stanco di, a volte in certi momenti, di ripetermi sul fatto che le fake news, realmente chi le racconta, arriva dai mezzi malchiamati di comunicazione ufficiale, di mainstream. Loro vi possono raccontare tutte le boiate che volete e nessuno dice bah e dice becco. Io, per andarci contro, ovviamente sono uno dei pochi, se non l'unico nel calcio canale demonetizzato, perché probabilmente mi sono messo contro un certo tipo di sistema per dire la verità. Sappiamo benissimo che in un mondo farlocco, nel quale viviamo, dire la verità porta ad omicidi come successe con Gandhi, come con Martin Luther King, 2500 anni fa Gesù Cristo. Qualunque persona che cerca di esporre le cose in maniera... Lungi da me è paragonarmi a loro. Io sono un pesciolino nel mezzo dell'oceano di quei grandi personaggi della storia, che sia chiarissimo. Non mi paragono neanche così, che sia chiaro. Io sono io. Però è anche sì vero che sono una di quelle voci un po' discordanti nel mondo del calcio che dà fastidio. Quindi anche uno dei pochi che nel milanismo, per esempio, difende a spada tratta Pioli per il lavoro fatto in questi anni, a differenza di altri che cavalcano l'onda, ovviamente, del momento dei Pioli out, e che le cose non vanno bene, perché anche stamattina il Corriere dello Sport ovviamente mette sul piedistallo la stella di Lautaro, il Toro punta il record di gol di Ciro e Iguain, se nelle prossime 12 partite fa 15 gol arriva a questo record. Dall'altra, la gazzetta interista dello sport, Vera Inter, perché ovviamente se non dicono cose belle l'Inter non riescono a prendersi il caffè con Cornetto e Brioche la mattina sereni, Vera Inter per il più 12, scatto scudetto con l'Atalanta, largo ai titolari stasera, ma tanto l'Atalanta farà la scansina stasera, cosa vi aspettate? Solo con noi cacciano la scienza, con l'Inter abbasserà le orecchie come all'andato, come sempre è. Come fanno un po' tutti, anche Lecce con noi ha cacciato la scienza dopo il 2-0 del primo tempo, poi al secondo tempo si sono svegliati, sembrano dopati. Con loro invece è stata la partita camomilla, 0-4 dall'inizio alla fine, nessuna reazione, niente, niente. Perché l'Inter è forte, ma le altre contro di loro diventano praticamente come delle occhette. E quindi, ovviamente, Pioli, i conti non tornano. Vetta lontana, difesa da ricostruire, ora serve di più, sul Milan sempre pa 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 pa, l'Inter pa pa, Milan pa 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 pa, l'Inter però manca sempre questa domandina che è Do-Ve-Zang. Fatela, fatela, perché se no ce lo dovreste far vedere, no, in qualche intervista, a San Siro, o no, perché anche queste telefonate dice Trassale-Zang. Cosa ne sa Biasin? Cosa ne sa Biasin? Perché ci venite a raccontare frottole? Perché? E in più venite anche ben pagati. Poi i cazzari siamo noi youtuber, capito? E vi credono anche sulla parola di quello che dite. Ma dov'è la prova? Portateci le prove. Volete sempre che noi cazzari youtuber vi diamo le fonti di quello che diciamo, da dove le diciamo, da dove arrivano le cose? E perché non chiedete la stessa cosa a loro? Ma questo vale anche per Corriere della Sera, Repubblica e tutti questi giornalacci che sono tutti ben orchestrati per manipolare le vostre menti verso allarmismi, verso cose Oddio, oddio, è così, è successo quello. Fate off, spegnete, e cominciate ad accendere questo. I conti non tornano, Pioli. Allora cosa dice la nostra cara gazzetta interista dello sport? La dirigenza è stata chiara con il tecnico, perché loro lo sanno, che Furlani, Scaroni, si sono seduti con Stefano Pioli e ha detto oi, bello, allora, da un lato, in campionato c'è da difendere, allora te lo faccio un po' la milanese, da un lato, il campionato c'è da difendere un piazzamento Champions imprescindibile, dall'altro, in Europa League, sarebbe visto di buon occhio arrivare in finale, indipendentemente poi dall'esito della stessa. Fino a settimana scorsa era almeno fino alla semifinale, ma invece ho il passo seguente, abbiamo superato il turno, adesso no, deve essere la finale. Se passiamo anche il turno degli ottavi e quarti, no, deve essere la vittoria con la Coppa alzata. Perché loro vanno così, eh? I giornali vanno in questo modo qua. Quindi la dirigenza è stata chiara con Pioli, ma non contento. Ovviamente i giornalacci dicono no, che dici io mica so contenti, c'è solo questo. E diamogli un'altra piccola coltellatina al Milan. La Repubblica, il giornale turbomondialista dei proprietari della Juventus. Anzi, ieri vi avete visto il mio nuovo spettacolo che ho fatto nell'altro mio canale Delirium Italicalcio. Andate lì che tra una risata e l'altra sparo sempre delle verità. Perché le verità bisogna dirle con la satira. Senza più incazzarsi. Mi vedete incazzato ormai? Ho abbassato completamente i toni da tempo. Non ho più bisogno di fare questo. Le cose si possono dire anche paccatamente. Arrivano comunque all'interlocutore. Interlocutore. La locomotiva che vi porta a San Vittore. Mi è piaciuta la battuta? Ha fatto la battuta. Vabbè. Io sono un burlone. Adesso sto cercando di mantenere i toni impagati, ma io normalmente sono un burlone. La mia vita mi va di ridere di tutto e di tutti, soprattutto delle stronzate che ogni giorno devo leggere su questi mezzi di distrazione di massa. Dunque, quegli aggiornamenti da La Repubblica. Grande giornale, La Repubblica. Questi anni sono allarmismi. Attenzione, quello ti mettono la maschera fino a qua. Perché c'è quello che è pesante, che succede quello che... Attenzione, la bomba che sta succedendo, questa guerra mondiale. Vabbè, ming, la legge La Repubblica. Cazzo, se fosse un maestro Zan che si legge La Repubblica, Oddio, Oddio, già, 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 me la sento, me la... Mi sono cagato sotto. Oddio, no, signorina Rottermaio, no, no, boom. Mazzata in testa e il signor Zan, anche lui è andato. E sì, perché è così, perché le persone che non hanno le palle ovviamente legano queste cose allarmismi. Non leggetele, è meglio, vivrete comunque più sereni. Tanto le cose che devono succedere nel mondo succedono, non è nelle vostre mani poi per cambiare, a meno che non cambiate voi da dentro verso un cammino diverso, nella vostra vita, ma non è in vostro potere decidere quello che c'è nelle sfere alte, quindi è inutile che vi fate il sangue amaro, no? La Repubblica dice che il patron, Aurelio dell'Aurendis, avrebbe composto una short list, già bella questa, in vista della prossima a Napoli, e qui è della prossima annata per il Napoli, no? Allora, il nostro Aurelio, pronto, è vincenzo italiano, l'anno prossimo potresti venire a allenare il Napoli? Eh? O vuoi continuare a arrivare nelle finali di Conference League, Coppa Italia, e non vincere un cazzo? Eh? O tu, Ivan Juric, vuoi continuare nella tua mediocrità del Torino? O? Stefano, Stefano Pioli, ascolta, tu sei la mia vera ipotesi, io voglio che l'anno prossimo vieni a Napoli, e fare tutto il percorso che hai fatto col Milan, e riportarci lo scudetto con tutti quei giovanotti, così mi fai spendere anche pochi soldi, capito? Ecco, questo, praticamente è così, sulla short list ci sarebbe anche Stefano Pioli, ed è un po' che se ne parla di questa cosa, che se in caso il Milan, dovesse lasciare andare via Stefano Pioli, ci sarebbe pronto Aurelio De Laurenti, ad abbracciarlo, in quel, sotto il Vesuvio, o vicino a, in via Galacciolo, dove c'è sta Castel dell'Ovo, che poi gli fa fare un bel giretto, pure al Maschiongioino, poi andiamo verso, eh, la sanità, poi ci facciamo tutto, ci facciamo a Napoli, e poi ci facciamo a Napoli, lo conosco benissimo, ho papà napoletano, e quindi, eh, Napoli stupendo, la più bella città in assoluto è Napoli, io vivo a Barcellona e vi dico, vabbè, Barcellona posso dire, per me è la più bella, poi ognuno dice, sembra la più bella, però per me Napoli è una città stupenda, cioè è una città stupenda, bellissima, io ogni volta che sono andato a Napoli, poi sono sempre stato trattato come un re, sarà per i parenti, gli amici, tutto quanto, ma l'accoglienza ricevuta a Napoli, si può paragonare solo come quando sono stato accolto in Sicilia, perché sono persone veramente di cuore, giù in meridione sono persone che, sono incredibili da questo punto di vista, comunque, ha detto questo, quindi Aurelio vorrebbe a Napoli, e vi ho lì in gara, no non rinnovavano a Napoli, ti faccio un contratto di cinque anni, e poi fai quello che vuoi, mi chiedi quello che vuoi, tanto tu sei uno che non chiede tanto, quindi non mi devi far spendere tanti soldi, capito? Dall'altra parte, la questione Teo, che già ieri mi avevo parlato, che già, uff, il Bayern Monaco all'assalto, il Milan, allora da ieri, attenzione, perché è scesa la graduazione di un giorno, da cento milioni che il Milan chiede, praticamente, è stato intervistato a SOS Fanta, il giornalista Matteo Moretto, sulla situazione di Teo Hernandez, allora, se ieri vi dicevano che era cento milioni la valutazione, il Milan ha messo un tetto, cento milioni, oggi cosa dice Matteo Moretto, già siamo al ribasso, un giorno o l'altro siamo scesi, la valutazione è intorno ai 70-80, ok, è il prezzo giusto, allora, scegliamo, dieci cento, oggi 70, 80, 70-80, domani quanto sarà? 75, 85, potete realmente credervi a queste cose, dai, siate onesti, mettete un attimino la mano sulla coscienza, potete ancora continuare a seguire, io lo faccio perché molti dicono, e vabbè, allora dalle tu le notizie, ma io non sono un giornalista, io sono uno youtuber, cioè, se io fossi un giornalista che avessi fatto la carriera, da giornalista, come, ci sono giornalisti seri, c'è un Nicolo Schira, secondo me è un giornalista serio, Fabrizio Romano, piuttosto che Daniele, è lungo, ci sono persone che sono punti di riferimento, anche nel giornalismo, una volta, poteva esserlo anche, beh, quando era più giovane, magari, Delegatti, quando aveva cominciato, adesso, vai, sarà anche per età, è un po' fuori dai circuiti, ogni tanto anche lui va un po' fuori dai circuiti, però, a tutto il mio rispetto, Carletto, perché io sono nato con lui, con le sue radio cronache, con il radio Peter Flower, con tutti i nomi che faceva, di tutti i giocatori, che si è inventato tutti con lui, quindi, grandissimo rispetto, ma lo stesso, Mauro Suma, Vitiello, sono tutti bravissimi giornalisti, però, purtroppo, a volte, ci si incappa, in lanciare delle bombette, così, San Antonio, mi sono svegliato, allora, diamo i numeri, 80 milioni, avrà chiesto, mi chiederà, che ne sanno loro, hanno parlato quei dirigenti veramente, quello è il discorso che a me, a Napoli, diciamo, Fabi, gli avremo, no? E, a molti estimatori, dice, tanto in Premier League, che in Arabia Saudita, e addirittura, nelle ultime settimane, ci sarebbero stati, degli emissari, arabi, che sarebbero arrivati a Milano, per sapere, se è un'operazione fattibile, per il prossimo calcio mercato, Hernandez, quando lui ieri, ha già ribadito, attraverso del suo conto di Twitter, del suo profilo Twitter, che, 200 presenze con il Milan, e siamo solo all'inizio, il meglio deve ancora arrivare, ah, santa pazienza, veramente, santa, quanta pazienza ci vuole, eh? Meno male che, me la prendo sportivamente, perché, come dico anche sempre, il calcio è la cosa meno importante, tra le più importanti, però è anche sì vero, che a me la menzogna, mamma, come mi dà fastidio, ragazzi, non me lo potete mai immaginare, io, posso accettare tutto nella vita, vi dico la verità, eh, anche essere criticato, per le mie idee, magari non piacciono, ci sta, viviamo, in teoria, in un mondo dove, eh, soprattutto, nei social, uno che esprime delle proprie idee, ovviamente non può avere il consenso del 100%, c'è sempre chi ti remerà contro, quindi, io dico la mia personale idea davanti alle cose, però una cosa che a me fa proprio imbestialire, sono le cazzate, cioè sono le prese in giro, sono le menzogne, le bugie, i pinocchi, mi danno un fastidio che voi non me lo potete proprio immaginare, ma fin da piccolo, io sempre, mi ricordo, ero in difesa anche dei bambini che erano i più emarginati, anche quando andavo all'asilo, alla scuola, sempre sono stato dalla parte del più debole, perché a me gli arroganti, le persone che si credono di sapere, e poi soprattutto parlo a certe sfere, quindi il giornalismo dovrebbe essere, diciamo, dovrebbe dare anche delle fonti reali di quello che dicono, per essere credibile, però come vedete, c'è tanta gente che mi dice, Mario, ma sai, tu dovresti avere un canale con almeno 200.000 iscritti, ho detto, sì, marameo, ma se è un mondo di falsi, quello che vogliono è sentire cazzate, e farsi impapocchiare dalle cazzate, perché le verità a volte possono essere crude, e possono fare male, molta gente non ha la capacità di scindere, e quindi le capisco anche con compassione, dico, mi spiace, mi spiace davvero. Comunque voglio chiudere questo programma, innanzitutto mandando un abbraccio a Frank, il nostro Franco Rossi, e a sua moglie Anna Maria, per quello che stanno passando in questo momento, perché queste sono probabilmente le cose più importanti nella vita, ha dei problemi di salute, in ospedale già da un po', e non sta bene. E lui è un senatore della tribù rossonera, un grande Franco, un grande lottatore, un grande guerriero, un grande esempio di vita, e sua moglie è una persona preziosissima, Anna Maria è qualcosa che di più bello non può esistere, queste sono donne vere, donne non quelle sciacquette che ci sono al giorno d'oggi, donne vere. E quindi il mio abbraccio va a voi, così come va a tutti coloro quelli della tribù che mi sostengono tutti i giorni, anche con i messaggi che mi hanno sostenuto in queste settimane, anche con i miei problemi di salute che ho avuto, io come vedete sono un guerriero, vado avanti, non mi tiro indietro, anche se non è risolto del tutto la mia situazione, però sono nella fase di guarigione. però cerchiamo di essere un po' più umani, di ascoltare di più il nostro cuore e la nostra consapevolezza, la nostra coscienza, e davanti a queste notizie, non prendetele come se fossero la verità assoluta, perché anch'io mi posso sparare la bomba, bombetta, è il Milan Sumbappé perché lui da piccolo era milanista, e mi invento una fake e la lancio come una bomba, o tutti quei giornalisti, bomba di mercato, o quello esonero, 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 coloro che si ritengono i grandi giornalisti milanisti o pseudotali, e ci sono tanti youtuber e tifosi che li seguono pure, e quindi capite che poi diventa una guerra fratricida fra di noi, anche tra youtuber stessi, io non voglio la guerra con nessuno, io voglio la pace, l'armonia, però che si rispettino anche le idee di chi come me normalmente va contro un certo tipo di sistema e di cose, altrimenti, a parte che io non sono per la democrazia, perché secondo me è una grande farsa, l'abbiamo visto, basta vedere la censura che c'è in questo momento, anche youtube, cioè persone che dicono delle cose che non vanno in linea a un certo pensiero dominante, vengono censurate, vengono bannate, demonetizzate, video che a me, non sapete quanti video mi hanno tolto, per parlare anche di questioni extra calcio, a me sembra più che altro un mondo molto orwelliano, quello che stiamo vivendo, questa è la mia idea, e ogni giorno mi si conferma dai fatti, anche extra calcio, basta che seguiate anche l'altro mio canale, Telegram, in basso trovate il link per entrare diretti, uniti per la verità, e so che lì non possono entrarci tutti, perché ogni giorno escono fuori delle cose che non mi raccontano, delle giornali e giornali, perché è meglio tenere nella bambagia e far credere a uno schiavo di non essere uno schiavo, quindi venderti fumo o specchi per allodole. Detto questo, ti ringrazio per seguirmi fino in fondo, per iscriverti al mio canale, per sostenere il mio canale in ogni modo, comunque tu creda, noi ci rivediamo a un appuntamento oggi, dell'Irmi Italia Calcio, mi raccomando, andate a vedere il video di ieri, assolutamente, perché è stato show, spettacolo puro, oggi cercherò di tirar fuori uno nella tribuna del pallone, un approfondimento, e niente, oggi ci sarà Sassuolo-Napoli, ci saranno i recuperi, stasera Inter-Atalanta, godetevi questo spettacolo che porterà alla cavalcata, al trionfo finale dell'Inter per questa seconda stella di cartone, e poi, come diceva Alessandro Manzoni, lascia i posteri, l'ardua sentenza. Un bacio alle amiche, un forte brazzo a tutti gli amici, sempre Forza Milan, ovunque e comunque, e noi ci vediamo a un prossimo video programma. Ciao!